13.133 imprese che includono una forza lavoro di 37.192 addetti. Di queste 907 sono attività manufatturiere che contano 5.800 addetti. Si presenta così la fotografia imprenditoriale del Tiguglio nel documento Contributi per un piano industriale del Tiguglio, tracciata da Giancarlo Durante, riconfermato presidente del gruppo locale di Confindustria. Lo scopo di aver prodotto questo piano è quello di mettere sul tavolo degli obiettivi che si possono concretamente realizzare e in tempi, abbiamo visto, neanche tanto dilattati. Per cui cose concrete su cui periodicamente noi dobbiamo confrontarci con le istituzioni, con le amministrazioni pubbliche per vedere a che punto siamo. I numeri sono sorprendenti. Il Tiguglio pesa a livello regionale in maniera oltre le aspettative? Certamente, è sempre pesato e ha sempre un'importanza molto rilevante, sia per l'aspetto economico e la qualità delle imprese, perché abbiamo visto anche oggi il consiglio direttivo neoeletto e rappresentato da aziende come Fincantieri, come Arinox, come Ilex, per cui veramente il massimo della metallomeccanica e della cantieristica. E quando parliamo di turismo rappresentiamo il 40% sul territorio del città metropolitano? Esatto, sì, è il 40% di tutti gli ingressi per motivi turistici che arrivano sulla nostra città metropolitana, per cui numeri veramente importanti. Su quello noi siamo attrezzati, abbiamo la materia prima. Cosa ci manca? Ci manca probabilmente una migliore organizzazione tra territori, cercare di far confluire i flussi turistici in maniera più regolata, non creare situazioni di stress, dare una offerta elevata per cui tutto quello che è l'accoglienza deve essere di massimo livello e poi, quello che è importante, attraverso l'implementazione delle infrastrutture, far muovere il turista in maniera agevole. In tutto questo abbiamo ascoltato il sindaco di città metropolitana che ha detto sì però non vi dovete chiudere, ma noi ci siamo chiusi in qualche momento? Ma noi non ci siamo mai chiusi, siamo sempre stati aperti a qualsiasi tipo di iniziativa. Quello di cui ho parlato oggi per esempio è un progetto importantissimo per tutto il Nord Ovest, cioè vedere collaborare assieme Milano, Torino e Genova, che comprende il Tiguglio? Io l'ho detto nella mia relazione, non c'è un territorio separato se non idealmente da un punto di vista geografico. Noi siamo parte integrante della città metropolitana e ovvio il Tiguglio ha le sue peculiarità. Non abbiamo le stesse problematiche e le stesse esigenze di Genova, però ci integriamo e noi non ci siamo assolutamente mai chiusi. Ma è ancora la viabilità che si pone al centro del documento e delle priorità. La valle è ancora una grande dimenticata. È ancora una grande dimenticata nella potenzialità che può esprimere. Ora francamente se noi guardiamo il rapporto popolazione, intervento economico, stiamo parlando di una cosa che è difficile da ottenere. Ora si ci presenta un'opportunità storica davvero importante, questo è il terzo valico. A criteri normali non avremmo mai avuto quel tunnel. Oggi è possibile. Lo sottolineo perché per tutte le attività industriali, artigianali, agricole che sono lì presenti questo è uno grande sbocco. Ma non è solo uno sbocco per l'Alta Valle, è uno sbocco e un potenziale enorme per il Tiguglio. Io esemplifico come il secondo, il terzo campo da golf, ma è un esempio. Però tenete presente che il Tiguglio è sovraffollato, non ha spazio, non è un esempio di spazi di sfogo, con l'acquisizione di un'interterra nella Fontana Buona acquisirebbe una dimensione da costa azzurra. Lei lo vede a rischio in questo periodo? No, non lo vede a rischio, però i tempi sono sempre troppo dilattati, per quello che dobbiamo fare, abbiamo bisogno di fare più presto. Sulle difficoltà di collegamento è intervenuto anche il sindaco di Città Metropolitana, Marco Bucci, che ha esortato il Tiguglio a non isolarsi da Genova. Sindaco, un suo appello è stato non la chiusura del Tiguglio, ma apritevi al mondo. Abbiamo questa immagine nella regione? Beh no, direi di no, però ovviamente ci sono tanti investimenti, tanti sistemi per aumentare la mobilità e quindi è opportuno che si cominci a pensare in grande e pensare di aprirsi al mondo e di andare nel mondo. Già Genova vuole andare con Milano e con Torino, la Liguria vuole andare con il Piemonte e con la Lombardia. Il Tiguglio, che è un posto di altissima qualità di vita, potrebbe avere veramente un ruolo preciso e importante in questa macro regione che cerchiamo di costruire. Si è detto oggi che le sfide si vincono facendo sistema e io aggiungo puntando anche sulle proprie caratteristiche, sui punti di forza, su ciò che connota un territorio. E quindi credo sia sicuramente utile la giornata di oggi che ha posto degli obiettivi ambiziosi in una logica proprio di rete e di sistema, non solo con il territorio della città metropolitana ma della regione Liguria tutta. L'elezione di rinnovo cariche è avvenuta nei giorni scorsi all'auditorium San Francesco di Chiavari poco prima dell'Assemblea pubblica. Tra conferme e new entry ha dato vita al nuovo consiglio formato da persone di esperienza e di nuovi eletti, giovani che favoriscono un ricambio generazionale. WaiLab nel 2016 ha iniziato in primis col supporto alla creazione di impresa, quindi col supporto alla nascita di start-up innovative sul territorio e anche con un'attenzione alla formazione, in particolare sui temi della digitalizzazione ma anche proprio delle nuove figure professionali che possono arricchire le aziende del territorio. Uno degli ultimi temi affrontati in questa assemblea è stato proprio quello della qualità di vita ed è un tema anche che come WaiLab dal 2016 cerchiamo di divulgare per le start-up che sicuramente sono piccole imprese ma portare giovani e portare nuove realtà anche interessanti per una fascia di età giovanile quindi meno magari industriali può essere sicuramente interessante per farle crescere.